Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video Allora, questo video non ha una intro Sono terribile questi giorni Mi perdo le intro, mi perdo le conclusioni dei video Scusatemi che c'è talmente tanta roba da far vedere, da condividere con voi Però fatta sul momento, niente di organizzato ovviamente Che non faccio in tempo a fare l'intro perché per esempio Aspettavo Lara per tipo mezz'ora dopo E invece hanno trovato subito perché già sono subito arrivati Quindi ero impreparata, infatti l'inizio di questo video sarà adesso con la webcam Dopo col telefono e poi arriva la massima qualità con la mia amata telecamera E quindi scusatemi Però vi volevo dire insomma che spero che questo video vi piaccia Perché è la reazione della mia bambina meravigliosa all'arrivo della sorella E quindi molto emozionante per me, è stato veramente bello E spero tantissimo che vi piacerà insomma Quindi vi lascio al video No, non sei tu Io stavo aspettando Lara Guarda che fa Chi c'è mamma? Chi c'è mamma? Chi è 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 mamma? C'è mamma? Tutto è largo. Vuoi? Vieni qui qua. Buongiorno. Buongiorno. Sempre io la Chiara del futuro, scusate, è che volevo dire una cosa importante. In questo video sentirete molto i cani abbagliare perché non sovraeccitati, mia madre che si preoccupa di ogni cosa, oddio lontanati di qua di là, capiteci, sono momenti nuovi per tutti, quindi c'era un po' di agitazione in generale, però tranquilli, adesso è tornato tutto nella norma, così ve lo volevo dire. Allora, te la passo io, tu stai tranquilla. Guarda, 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 guarda. È tua sorella, è tua, è tutta tua, è tua, è tua, hai visto, non pesa tanto, hai visto? d'acqua a là. E non fa molto per ora, dorme più che altro. Ma non soffre il suonetico, no, asce. Sì, sì, soffre il suonetico, vieni. Lo soffre, lo soffre, lo soffre. Sì, è malina piccola. Tu vi faccio vedere pure i pittini, oh, oh, guarda, guarda, guarda. Vieni, me la riprendo un attimo. Ma hai indossato il pannolino? Indossa il pannolino. Iniziamo bene. Che c'è? Ho fatto l'ultimo. Ho fatto l'ultimo. Hai prima i capellini. Vedi che è stempiata? Fino a qua. Qua c'è un po' di capelli. Qua c'è un po' pelato. Tutta pelata. Il pannolino è un po' grato. Allora, guarda, senti. Mi vuoi conto l'ulcini. Che cosa è questa? Quella è la crema. Esatto. Controlla se sta sul comodino, se è caduto per terra. Il comodino non c'è a controllare. Cos'è questo? No, quello no, mamma, non è quello. C'è un cambiamento poi per la prima volta. Amore mio. Guarda, vomiti, pietino. Pietino, pietino. Guarda, tu sorella, così tu non piangi. Che trova? Eh? Ma no, gli va troppo grande. Ma sì, ma tutto gli va troppo grande. Ma no, no. Non osagite. Non li metti per le calzine sopra? Sì, no, sopra. Le calzine sopra è più comodo, dicevano al nido. Sì, per... Me lo dai la manina invece di mangiartela? Grazie. Gentilissima. E qua. E qua. Oddio, che è successo? Uno tira di qua, uno tira di là. Ma me la lasciate, stai. Stiamo andando a fare la pappa. E la pappa è lì. E Lara per la prima volta. Porta è l'altra. Si tira. Vieni a retta, poco toco. A retta. Ok. vai piano piano e dritta piano piano la prima scena di famiglia tutti insieme si asci ci sei anche tu si sta mangiando così da prima con la mano su zoe amore e lei che dice o signore si razza di groba gelosissima non posso dartelo il pollo non si può la pace del pollo no papà non è budino come mamma papà non vuole prenditela con lui non con me ma mi sa che mentre noi facciamo la pappa lei fa la bubo questi sono i momenti di una mamma di difficoltà estrema se toggo il braccio si sveglia ma non posso rimanere in visita questa è la mia mano e si è sotto la mano di zoe che è così grande è sotto il braccio sono incastrata raga perché se mi la con lei si sveglia ma non posso rimanere così seriamente sono la mia carriera da madre è finita super mamma wins più la mia carriera da madre è finita e sono è Grazie a tutti. Grazie a tutti.